Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto a tutti coloro che si sono collegati a questo appuntamento che sarà un po' diverso dal consueto webinar. Infatti l'abbiamo chiamato Parliamone. Potremmo definirlo come una sorta di salotto virtuale ovviamente dove i nostri esperti risponderanno a una serie di domande riguardanti il tema della serata, cioè gli interruttori differenziali sotto tanti punti di vista. Un argomento sicuramente interessante e molto spesso piuttosto dibattuto. Dalle caratteristiche e dalle peculiarità di un interruttore differenziale lo sappiamo che dipende dalla nostra sicurezza eppure spesso si tende a utilizzare il più economico ignorando tutta una serie di problematiche sia impiantistiche che normative. Saranno quindi queste alcune delle questioni che verranno affrontate questa sera. Ricordo che anche voi naturalmente potrete porre i vostri quesiti utilizzando la chat che avete a disposizione. Adesso passiamo a presentare i nostri esperti che sono dei colleghi vicino. Inizio da Maurizio è un esperto progettista per essere molto chiari sia nel campo dell'installazione degli impianti elettrici industriali che nella realizzazione e progettazione di quadri elettrici anche piuttosto complessi. La sua esperienza si estende anche alla progettazione di impianti e di sistemi di supervisione. Inoltre in Biticino si occupa anche della gestione di impianti di importanti commesse negli ambiti più diversi come terziario, uffici, strutture sanitarie, strutture ricettive, ambiti residenziali e anche nel settore industriale, soprattutto industria manifatturiere e petrolchimici. Persona quindi con un'importante visione su moltissime problematiche sia impiantistiche che progettuali. Poi c'è Sergio Bossi che è responsabile, niente meno che è responsabile della sala prova in Biticino proprio per quanto riguarda l'omologazione e la certificazione degli interruttori modulari, quindi anche differenziali, nonché segretario del sottocomitato CEI 23, la cui denominazione è interruttori automatici per applicazioni domestiche e similari. Bene, siamo pronti? Siamo tutti collegati? Saluto anch'io tutti i presenti. Prova audio anche con Sergio fatta. Sì, proviamo l'audio e iniziamo dai. Benissimo, allora io inizierei da Maurizio, Maurizio Castani. Maurizio, ci puoi descrivere, giusto per introdurre chiaramente, qual è in generale il principio di funzionamento di un interruttore differenziale e a cosa serve, ovviamente? Allora, di nuovo vi rinnovo i miei saluti. Andiamo un attimo per ordine. Come funziona un differenziale? Sostanzialmente un dispositivo differenziale è normalmente costituito da un toroide attraverso il quale vengono fatti transitare tutti i conduttori attivi in un determinato circuito. Il segnale risultante, quale somma vettoriale di tutte queste correnti, viene elaborato da un circuito elettronico e se vengono superate delle soglie prestabilite, viene generata un'attuazione che provvede attraverso opportuni automatismi ad interrompere l'alimentazione di questo circuito che è controllato appunto da questo differenziale. La condizione ideale quindi è che la somma algebrica delle correnti sia uguale a zero e cioè che non siano presenti delle dispersioni. A cosa serve? Beh, un dispositivo differenziale viene utilizzato negli impianti elettrici quale protezione da contatti indiretti tramite tempestiva interruzione automatica dell'alimentazione su un circuito che presenta un guasto o come protezione addizionale in caso di fallimento delle produzioni adottate contro i contatti diretti e indiretti. In questo caso il valore della corrente differenziale di questo dispositivo non deve superare logicamente i 30 mA, sostanzialmente la funzione salva vita. Qui siamo naturalmente ai principi ed è giusto per incontrare il contesto, diciamo così. Ovviamente ci sono anche delle normative di riferimento che vanno seguite per poter poi omologare questi dispositivi a seconda delle loro funzionalità e dei loro scopi. Sì, sicuramente Sergio la conoscerà meglio di me, comunque sostanzialmente le norme di prodotto sono quattro, abbiamo la CEI EN 61008 che è la norma di riferimento per gli interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per le installazioni domestiche o similari, mentre la CEI EN 61009 è la norma di riferimento sempre per gli interruttori differenziali, in questo caso con sganciatori di sovracorrente incorporati per le installazioni domestiche o similari, sostanzialmente l'interruttore magnetotermico differenziale, mentre nella 61008 interruttori differenziali cosiddetti puri. Per passare poi all'ultima arrivata che è la CEI EN 62423 che è di riferimento per la realizzazione degli interruttori differenziali tipo F e tipo B con o senza sganciatori di sovracorrente incorporati per le installazioni sempre domestiche e similari. Oltre a questo, della famiglia 69472, abbiamo che parla genericamente delle apparecchiature a bassa tensione nella parte 2 relativa agli interruttori automatici, nell'allegato B si parla di interruttori con protezione differenziale incorporata, mentre nell'allegato M si parla di dispositivi differenziali separati, cioè non integrati nell'apparecchio di interruzione, quelli che chiamiamo a toroidi separato. Questi sono un po' gli scatoloni, dove c'è dentro un po' di tutto, però immagino che ogni singola norma per quella tipologia di differenziale vada a definire delle caratteristiche, delle peculiarità. Sì, diciamo che le grandezze caratteristiche di un differenziale sono parecchie, faccio qualche esempio, parliamo ad esempio della corrente nominale, quella essenziale per poi scegliere un dispositivo di questa tipologia, parliamo poi della corrente differenziale di intervento, la famosa IDN, abbiamo anche i tempi di intervento differenziale, quindi si può scegliere il differenziale proprio anche per il delta T, cioè il tempo di intervento del differenziale, poi parliamo per esempio del potere differenziale di chiusura o di interruzione nominale, o del potere di chiusura e di interruzione nominale dell'apparecchio stesso, non del potere interruttore differenziale, ma del potere di chiusura e di interruzione dell'apparecchio stesso. Tra queste caratteristiche ci sono anche quelle di funzionamento in relazione alla forma d'onda della corrente differenziale a cui possono lavorare i famosi interruttori differenziali tipo AC, tipo A, tipo F e tipo B. Vediamo se possiamo riassumere tutto quello che hai detto, cercando una sintesi. Tutti quei parametri che tu hai detto, incominciamo a dire che non sono soltanto dei miei parametri illustrativi, diciamo così, ma servono ovviamente a livello impiantistico per poter strutturare l'impianto a seconda delle esigenze. Iniziamo magari a mettere il concetto di backup o di selettività, per esempio, no? Esatto. Piuttosto che di correnti di guasto, piuttosto che di richieste normative specifiche, mi verrebbe da dire, perché in alcuni casi certe peculiarità vengono richieste proprio dalle norme impiantistiche. Sì, diciamo che sostanzialmente i differenziali, secondo la norma, devono avere tutti questi parametri, queste caratteristiche dichiarate, il costruttore deve dichiararle. Poi per sapere quale utilizzare dipende poi dalle norme impiantistiche e dalla condizione impiantistica in cui io le vado a inserire. E dalle scelte sostanzialmente. Esatto. Sergio. Tocca a te. Allora, abbiamo parlato, anzi abbiamo, ha parlato Maurizio anche di forme d'onda. Ce ne sono diverse, come sappiamo. Puoi provare a descrivercelo un po' più in dettaglio, visto che entriamo anche nel merito del tuo lavoro, sostanzialmente? Sì, allora, diciamo che gli interruttori differenziali hanno una classificazione che poi viene chiamato tipo di interruttore differenziale, che può essere tipo AC, tipo A, tipo F e tipo B. Ogni tipologia di questo interruttore differenziale è caratterizzato dalla capacità di poter intervenire in presenza di certe forme d'onda che caratterizzano la corrente di dispersione verso terra. Partendo dal tipo AC, che è il primo interruttore differenziale nato, quindi il primo scapo, il capostipite degli interruttori differenziali, un interruttore differenziale in grado di intervenire in presenza di corrente differenziali sostanzialmente alternate. Può essere in grado di intervenire per delle presenze di sinusoidali, può essere in grado di intervenire anche in presenza di qualche corrente leggermente parzializzata, ma comunque in presenza delle due semionde, delle due polarità e così via. Poi è nato l'interruttore differenziale di tipo A, che è in grado di intervenire in caso di correnti differenziali provocate da un raddrizzatore monofase e quindi anche parzializzate, quindi sono delle correnti unidirezionali, quindi possiamo avere una corrente di una polarità positiva o negativa, che può avere anche un angolo di inserzione sull'onda di corrente che non è lo zero classico della sinusoide e quindi sono in grado di intervenire in caso di raddrizzatori monofasi con ponte a 4 di odio ad esempio. Poi c'è l'interruttore differenziale di tipo F, che è un interruttore in grado di intervenire anche in presenza di correnti che abbiano una componente multifrequenza e poi per arrivare al tipo B, che è un interruttore differenziale in grado di intervenire anche in presenza di correnti continue. Qual è la strategia di protezione che è stata messa dietro a questi interruttori? Che ogni categoria nel crescere della tipologia di interruttore differenziale è in grado di proteggere comunque anche per la categoria o la tipologia diciamo antecedente. Cioè cosa significa? Che se l'interruttore di tipo AC è in grado di intervenire solo per la corrente alternata o comunque con la doppia polarità presente nella forma d'onda, l'interruttore di tipo A sarà in grado di dare una protezione aggiuntiva, quindi è in grado di proteggere per una corrente unidirezionale, ma sarà comunque in grado di proteggere anche per la corrente prevista per il tipo AC. Il tipo F cosa fa? Il tipo F è in grado di proteggere per delle correnti multifrequenza, quindi con una composizione diciamo armonica di questa corrente, ma è comunque in grado di proteggere anche in caso di correnti unidirezionali come da tipo A e per correnti alternate di tipo AC. Se arriviamo poi al tipo B, che è l'interruttore sicuramente più complesso e più importante delle quattro tipologie di interruttori esistenti, sarà in grado di intervenire addirittura per correnti continue, addirittura da batteria, quindi è in grado di proteggere e intervenire per correnti continue pure, ma sarà comunque in grado di intervenire anche per quanto previsto per gli interruttori di tipo F, A o AC, quindi multifrequenza unidirezionali o alternate. Questo è quanto. Se guardiamo la tabella che tu hai messo sul video, possiamo vedere che nel caso di un tipo AC avremo quindi un carico lineare, quindi potrebbe essere una resistenza ok, nel caso del tipo A il tipico carico che andremo a proteggere sarà un raddrizzatore monofase, che può essere un ponte a quattro diodi ad esempio, se andiamo sul tipo F parliamo di convertitori di frequenza, quindi regolazione di motori in caso di alimentazione monofase e fase neutro, perché è importante che questo punto sia chiarito, quindi il tipo F è importante quando abbiamo un convertitore monofase e fase neutro, per poi arrivare al tipo B dove abbiamo il raddrizzatore e convertitore di frequenza trifasi, dove arriviamo ad esempio ai gruppi di continuità trifasi, ad esempio come tipico caso di utilizzatore. Sergio, se dovessimo ad ogni tipologia associare un esempio di un qualcosa che abbiamo in casa? Allora, in casa forse al tipo B non ci arriviamo, però se ragioniamo in casa sicuramente l'esempio per il tipo AC sono le lampade ad incandescenza che abbiamo avuto fino a poco tempo fa, per un raddrizzatore monofase potremmo avere qualche utilizzatore monofase, un convertitore ad esempio potrebbe essere un alimentatore di un computer che abbiamo in casa. Convertitore di frequenza, sono sempre più frequenti ad esempio le lavatrici dove abbiamo la regolazione della centrifuga, dove abbiamo diverse velocità che possiamo regolare, non so 600, 800, 1000, addirittura 1600 o forse anche di più giri al minuto, per poi arrivare al tipo B, dove forse nell'ambiente domestico tipico non ce l'abbiamo, ma potrebbe essere ad esempio un ambiente dove abbiamo in un'installazione un ascensore ad esempio, quindi un motore trifase che è protetto da un interruttore che è in grado di intervenire anche in caso di correnti continue, prodotte magari dal convertitore trifase che regola la velocità del motore in fase di arresto o partenza dell'ascensore. Non voglio costringerti a dirlo, ma mi pare di capire che in un appartamento la protezione ideale è un tipo F. Sì, diciamo che oggi come oggi, visto la tipologia di utilizzatori che andiamo ad avere, anch'io nel mio piccolo appartamento, sono una persona singola, ma ho comunque una lavatrice che contiene un convertitore di frequenza, e quindi posso regolare la velocità della centrifuga a mio piacere, diciamo che la protezione ideale è sicuramente un interruttore di tipo F. Anche perché qui stiamo parlando in realtà di altri tipi di problematiche, cioè tu hai parlato prima di curve, ma in realtà questi differenziali sono sensibili a determinati tipi di problematiche, come potremmo, non lo so, ne ho avuto lì una, immunità e disturbi per esempio. Ma sicuramente sì, allora diciamo che ricollegandoci a quello che ha detto Maurizio prima, ci sono delle caratteristiche degli interruttori differenziali che sono standardizzate, quindi un interruttore differenziale ha delle caratteristiche che sono definite dalla norma, quindi c'è una classificazione proprio all'interno della norma che definisce la tipologia di interruttore differenziale. Questo arriva a definire ad esempio il tipo dell'interruttore differenziale, che può essere A, C, I, A, F o B, ma non entra poi nel dettaglio, o perlomeno non entra così approfonditamente nel dettaglio di quello che può succedere poi nell'impianto da questo punto di vista, nel senso che oggi come oggi abbiamo tanti tipi di carico nelle nostre case, nei nostri impianti, e sicuramente un aspetto da tenere in conto in considerazione è quello relativo alle perturbazioni che si possono verificare nel punto di installazione di questo interruttore. Oggi come oggi le norme prescrivono che gli interruttori debbano avere dei livelli di immunità minimi previsto dalle normative, quindi oggi tutti gli interruttori differenziali devono essere conformi nell'ambiente domestico alle norme IEC e N61543, addirittura le norme europee sono più stringenti e hanno requisiti più importanti rispetto a queste perturbazioni, rispetto a quello che è la norma internazionale IEC e quelli che sono i valori prescritti dalla IEC e N614472 per l'ambiente industriale. Tuttavia questi interruttori possono essere comunque soggetti ad altre perturbazioni che possono verificarsi negli impianti al di fuori di quelli che sono i minimi requisiti costruttivi, ad esempio potremmo avere la presenza di correnti di dispersioni permanenti nell'installazione dovuti alla capacità distribuita dei conduttori verso terra, perché i cavi che abbiamo nell'installazione sono installati normalmente parallelamente verso il piano di terra ok, quindi questi cavi verso terra presentano una capacità che può provocare delle correnti di dispersione soprattutto in presenza di spunti, di picchi di sovratensione e così via. Poi abbiamo la presenza di armoniche che si può verificare, di correnti di dispersione ad alta frequenza che si possono verificare negli impianti. Abbiamo la presenza di correnti differenziali transitorie dovuti ad esempio a sovratensioni di manovra o alla presenza di un temporale, cioè conosciamo tutti il caso del temporale che fa scattare l'interruttore differenziale. Abbiamo delle correnti impulsive causate da fulmini, quindi sicuramente ci sono delle altre tipologie di problemi da prendere in considerazione. Oggi come oggi ovviamente l'esperienza dei costruttori ha fatto sì che i prodotti siano sempre più immuni da questo punto di vista anche a livello progettuale, cioè quindi ogni costruttore che ha affrontato questi problemi nel passato è a conoscenza e quindi sa cosa fare per prevenire queste cose. Ma alcuni punti sono stati anche normati, perché ad esempio la norma EN 62.423, che è la norma di cui parlavamo prima per gli interruttori di tipo F e di tipo B, ha preso in considerazione proprio il caso dei carichi per i quali questi interruttori sono stati studiati, i carichi per i quali questi interruttori devono essere in grado di proteggere e ha visto che ad esempio la presenza di filtri verso terra può provocare degli scatti intempestivi e sono stati addirittura inseriti nelle norme delle prescrizioni minime che questi interruttori devono essere in grado di proteggere. E quindi ad esempio l'interruttore di tipo F come l'interruttore di tipo B, ma abbiamo detto che l'interruttore di tipo B non è proprio adeguato all'ambiente domestico, ma ad esempio l'interruttore di tipo F è la risposta giusta in caso di problemi di scatti intempestivi nell'impianto. Ecco, forse è bene sottolineare ulteriormente che l'insensibilità verso i disturbi e la sensibilità verso invece determinati fenomeni che invece possono essere dannosi sono due facce della stessa medaglia. Cioè il fatto che un dispositivo non senta determinati disturbi è solo un pregio. Sì, sì, sì. Allora, questo da costruttore di interruttori differenziali è un po' un problema che è difficilmente recepibile dall'utilizzatore e dall'installatore di interruttori differenziali, perché molte volte l'intervento di un interruttore differenziale viene preso un po' come un problema dell'interruttore differenziale, ma molte volte l'interruttore differenziale interviene, anzi, diciamo nella maggior parte dei casi l'interruttore differenziale interviene perché c'è una corrente che va verso terra. Quindi il giusto equilibrio tra la giusta risposta nell'intento di proteggere e di non intervenire in caso di transitori è quello che il costruttore deve trovare. Sergio, prima hai accennato in fondo tutta la tua disamina agli interruttori di tipo B che molto raramente, quasi mai, trovano applicazione nell'ambito residenziale, forse al di fuori della porta, mettiamolo così. Però questo giustifica fino a un certo punto che devono avere un costo, diciamo, così importante. Ecco, perché costano così tanto? Allora, diciamo che l'interruttore di tipo B è un interruttore doppio, diciamo, nel senso che, allora, è un interruttore che è composto da due parti. È un interruttore che è in grado di intervenire come un interruttore di tipo A o F, quindi è in grado di intervenire per correnti alternate, correnti pulsanti unidirezionali, in molti casi, in caso di correnti differenziali in multifrequenza, con un interruttore differenziale di tipo elettromeccanico. Quindi, contiene una parte elettromeccanica che è in grado di intervenire per queste correnti. In più, contiene un'altra parte, un altro, diciamo, interruttore differenziale, che ha una composizione un po' diversa, nel senso che ha un toroide, ha una scheda elettronica piuttosto complicata, che contiene anche un microprocessore, e che va a vedere questa corrente continua che si può verificare nell'impianto, e va a vedere la saturazione che questa corrente può provocare nel toroide dell'interruttore differenziale. Quindi è una macchina complessa, una macchina che ha due differenziali, diciamo anche separati, perché poi magari vanno ad agire sullo stesso relais che produce l'intervento, ma la fase di rilevamento della corrente, analisi di questa corrente differenziale, è completamente separata. E quindi questo ovviamente è un motivo per il quale questo interruttore è un interruttore molto più complesso, e che ovviamente ha dei costi molto più elevati di un interruttore differenziale tradizionale, come può essere un tipo AC, A o F. Bene, Maurizio, adesso che Sergio ci ha fatto tutta la disamina costruttiva piuttosto che impiantistica, diciamo così, adesso vengo da te per capire se e quali norme ci sono che impongono o consigliano determinati tipologi di interruttore differenziali nell'impianto appunto? Allora, diciamo che esistono sostanzialmente due tipologie di norme. Le norme che sostanzialmente sono relative a questioni impiantistiche, e quindi conosciamo tutti benissimo la norma C64-8 dedicata agli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 volt in corrente alternata e a 1500 volt in corrente continua. Ma esistono anche altre norme, che sono norme di prodotto relative, diciamo appunto, alla realizzazione di questi apparecchi come nella CEI EN 50178 relativa apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza, le CEI EN 62 477 che parlano dei requisiti di sicurezza per i convertitori elettronici di potenza e le CEI EN 62 040 che parlano dei sistemi statici di continuità che all'interno appunto di queste norme di prodotto vengono date delle indicazioni relativamente affinché il costruttore di questi dispositivi è invitato a dichiarare con quale differenziale, con che tipo di differenziale deve essere protetto quel tipo di apparecchiatura. quindi due norme, non solo quelle impiantistiche ma anche quelle di prodotto, perché è proprio la scelta di un differenziale di un tipo anziché un altro è proprio soggettivo al fatto che ho un carico da proteggere che ha determinate caratteristiche. vediamo quindi nella 64.8 quali sono i punti dove si parla delle tipologie di differenziali, nella sezione 710 locali ad uso medico c'è una prescrizione in cui viene detto che nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2 dove sono richiesti interruttori differenziali devono essere scelti solo quelli di tipo A o di tipo B in funzione del tipo e della possibile corrente di guasto. Quindi qua abbiamo già un'indicazione che in questi ambienti per esempio il tipo AC non può essere utilizzato. Passiamo poi ad esempio ai sistemi fotovoltaici nella sezione 712 parlando della loro alimentazione viene detto quando un impianto elettrico comprende un sistema di alimentazione fotovoltaico senza almeno una semplice separazione tra il lato CA e il lato CC parliamo quindi del convertitore il dispositivo differenziale installato per fornire protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione di essere tipo B quindi anche questa è una prescrizione normativa all'articolo 712 413 1111 Passando poi alla sezione 722 aggiunta abbastanza di recente parlando di alimentazione dei pellicoli elettrici anche qua all'articolo 722 503 111 si parla di dispositivi di protezione differenziale il dispositivo differenziale che protegge il punto di connessione deve essere almeno di tipo A per il veicolo in accordo con la serie, con la norma CEN 62 196 si devono prevedere le misure di protezione contro i guasti a terra in corrente continua adottando ad esempio dispositivi differenziali tipo B vedete che ci sono proprio delle indicazioni molto chiare rispetto passando poi per invece parlando di prestazioni dell'impianto quindi ci riferiamo alla sezione 37 parlando di ambienti residenziali all'articolo 3741 viene consigliato l'impiego interruttore di differenziale tipo F per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici e o condizionatori fissi quindi ci riallacciamo al discorso che faceva prima Sergio sostanzialmente anche la norma consiglia l'impiego di questi tipi di differenziali proprio perché ormai tutti questi tipi di carichi ormai sono costruiti al loro interno dei convertitori e quindi la necessità dell'impiego del tipo F Maurizio, prima di proseguire mi ha dato una domanda che è evidente a qualcosa che è appena illustrato sì, la smarchiamo subito la smarchiamo subito come si dice in gergo allora la domanda dice testualmente quindi in ambito ospedaliero quindi evidentemente si riferisce alla sezione 710 non si possono utilizzare differenziali di classe F? no, io direi di no cioè io direi di sì che si possono utilizzare i tipi F perché il tipo F racchiude in sé tutto quello che è il tipo A cioè come diceva prima Sergio il tipo F racchiude in sé tutte le caratteristiche di protezione del tipo A quindi il tipo F è più che adatto anzi è migliorativo rispetto al tipo A non vi nego che per esempio prendendo a riferimento la sezione 37 dove si parla di prestazioni di impianto fino a poco tempo fa nei consigli appunto per la protezione di lavatrici e condizionatori fissi c'era indicazione di utilizzare un tipo A mentre adesso abbiamo già un tipo F questo fa parte anche di un discorso che la norma in pianti diciamo segue un po' quella che è l'evoluzione poi della norma di prodotto perché nonostante il tipo F sia a metà strada come livello di protezione tra il tipo B e il tipo A è l'ultimo nato e quindi è l'ultimo immesso diciamo sul mercato e logicamente magari non tutti gli articoli hanno ancora recepito il tipo F però è scontato che il tipo F racchiude in sé le caratteristiche di protezione del tipo A e quindi è più che adatto Sì se posso aggiungere appunto come hai detto tu è l'ultimo nato nella famiglia degli interruttori differenziali e ha avuto proprio anche scopo di andare a garantire una protezione nel caso di circuiti alimentati tra fase neutro monofasi tra fase neutro quindi applicazioni nelle quali dove un condizionatore come abbiamo visto o una lavatrice sono perfettamente idoni a essere inseriti in questa tipologia di apparecchi quindi come abbiamo visto con Dario il tipo B è un interruttore molto costoso quello che ha per le sue peculiarità per la sua tipicità di costruzione o che è un interruttore complicato o costoso il tipo F è il giusto interruttore da inserire a protezione di queste linee dove ci sono queste apparecchi è anche più completo insomma Sì è più completo sicuramente per proteggere questo anche l'interruttore di tipo A probabilmente garantisce una protezione molto importante però sicuramente il tipo F è stato studiato appositamente per andare a capire le peculiarità delle correnti di fuga che si possono verificare in caso di convertitori di frequenza in questi casi insomma Ritornando proprio all'aspetto normativo quindi alcune norme di prodotto impongono ai costruttori di indicare sul manuale il tipo di differenziale da utilizzare qualora fosse necessario il suo utilizzo a monte quindi ad esempio nei convertitori elettronici di potenza o negli UPS ormai tutti i costruttori devono indicare proprio perché la norma di prodotto lo richiede con quale e con che tipo di differenziale deve essere protetto questi dispositivi oltre a questo altri costruttori ad esempio parlando di apparecchiature elettromedicali e ascensori dove proprio c'è anche in questo caso parliamo di conversione di dispositivi di conversione anche in questi casi molti costruttori scelgono appunto di indicare qual è l'esatto la tipologia di differenziale da utilizzare Maurizio ma stiamo sempre sul differenziale tipo B che non ha solo problemi di costi e questi ce li ha chiariti Sergio ma anche dei grossi punti interrogativi per quanto riguarda la sua modalità di installazione quindi ci sono richieste particolari cosa devo mettere a monte, a valle insomma sì come dicevamo prima io quando devo installare un differenziale logicamente la sua scelta avviene proprio in funzione di quelli che sono i valori tipici cioè la corrente nominale, la soglia differenziale, il tempo di ritardo se occorre selettivo e via dicendo sono diciamo concetti ormai assodati devo seguire logicamente delle regole di coordinamento di selettività per fare un buon impianto e tanti altri parametri logicamente il numero di poli e quant'altro tuttavia quando devo scegliere la tipologia è di estrema attualità chiedersi ma posso installare un differenziale tipo B a valle di dispositivi di tipo AC, A e F diciamo questo è un po' la domanda che gira anche da diverso tempo e al quale non tutti sanno dare una risposta certa allora dobbiamo partire da questa considerazione la componente continua della corrente che si potrebbe stabilire durante un guasto a terra non solo non viene rilevata dai tipi A, AC e F ma potrebbe addirittura compromettere il corretto funzionamento a causa della saturazione del circuito magnetico interno al dispositivo quindi un malfunzionamento di differenziali tipo AC, A e F questo a causa appunto della corrente che non è ancora sufficiente a fare intervenire il mio differenziale di tipo B previsto secondo i discorsi che abbiamo fatto per proteggere un determinato carico installato a valle la corrente che si viene a instaurare con componente continua non è sufficiente diciamo ancora a fare intervenire per soglia differenziale il mio interruttore ma potrebbe comunque accecare gli interruttori diciamo in gergo si dice accecare interruttori differenziali a monte anche perché se sono interruttori a monte sotto potrebbero avere anche più circuiti quindi la somma di tutte le dispersioni potrebbe essere una dispersione importante che porta appunto a questo non corretto funzionamento secondo le norme di prodotto però che abbiamo visto che abbiamo già citato sopra parliamo delle norme di prodotto diciamo dei convertitori di frequenza degli UPS e quant'altro c'è una prescrizione che dice che tutti gli eventuali interruttori differenziali a monte di interruttori indifferenziali tipo B devono essere anch'essi di tipo B in questo la 648 che è la norma impianti che tutti noi seguiamo non accetta non accenna al momento a questi aspetti tuttavia è bene ricordare che la norma di prodotto per la costruzione degli interruttori per la costruzione degli interruttori differenziali tipo AC, A e F non indica una specifica prova da effettuare su questi apparecchi per determinare qual è la soglia minima di componente continua non sufficiente a portare in sotturazione il proprio circuito magnetico quindi è un po' un limbo dove potrebbe non funzionare ma magari l'interruttore funziona quello dipende poi da ogni costruttore da che tipo di soluzione è adottata per realizzare il proprio interruttore e quindi è ancora una terra dove non abbiamo ancora diciamo delle chiare indicazioni quindi il mio suggerimento è di prestare quindi particolare attenzione quando devo mettere due differenziali in serie dove l'ultimo della catena è un tipo B proprio per il discorso che dicevamo prima non è il differenziali tipo B logicamente che crea problemi agli interruttori differenziali montati a monte ma è la corrente di ispezione che si potrebbe creare che crea problemi al funzionamento che potrebbe creare problemi agli interruttori differenziali stradati a monte di un differenziale tipo B correttamente previsto per proteggere quel tipo di carico se possibile l'ultimo mio consiglio è proprio quello di adottare situazioni circuitarie alternative magari dedicando una linea ad hoc per quel tipo di carico dove è un differenziali tipo B questo è il punto di vista dell'impiantista adesso voglio sentire il normatore perché infatti ho fatto questa domanda un po' allargata magari ma anche perché ne sono arrivate due in chat una conseguenza dell'altra che chiedevano esplicitamente se da qualche parte, da qualche norma chiaramente si richiede che a monte di un differenziale quindi è un po' più generico a monte di un determinato di una determinata categoria per esempio classe B non posso installare interruttori che abbiano una classe inferiore per esempio potrebbe essere un A o un F o una C ma allora ti do il mio punto di vista Dario allora l'argomento è ovviamente un argomento molto dibattuto nella comunità normativa nazionale e internazionale di recente è stata pubblicata la nuova parte 53 della IEC 364 che è l'equivalente internazionale nel mondo IEC della 648 sostanzialmente che dice che quando un interruttore differenziale di tipo A, F o B è installato a valle di un altro differenziale il differenziale a monte può essere della stessa tipologia dell'interruttore installato a valle quindi se ho un B ci metto un B a monte se ho un A ci metto un A a monte e questo è la cosa più semplice oppure deve essere coordinato con il differenziale a valle in accordo con le istruzioni del costruttore questo è quello che ha scritto diciamo la IEC a livello internazionale ovviamente questa parte dovrà essere recepita eventualmente in Europa poi dovrà essere recepita in Italia ma questo perché è stato fatto? perché in realtà esistono interruttori differenziali ad esempio di tipo A o F che non vengono accecati dalla corrente differenziale di tipo continuo che potrebbe far passare il tipo B a valle e questo potrebbe permettere di utilizzare a monte un interruttore di una classe, lasciami dire, inferiore e ovviamente contenere anche i costi dell'installazione quindi è sicuramente una problematica non facile da affrontare perché come ha detto Maurizio poi dipende anche da quanti circuiti a valle abbiamo protetti dagli interruttori differenziali di tipo B perché se noi ragioniamo uno a uno nel senso che abbiamo un interruttore a monte un interruttore a valle quindi abbiamo una corrente massima che può circolare di tipo continuo e quindi può acceccare l'interruttore a monte ma se a valle dell'interruttore a monte abbiamo N linee ovviamente la sommatoria di tutte le correnti continue che possono verificarsi può portare ad un livello di corrente elevato che può acceccare l'interruttore a monte quindi un interruttore di tipo F a monte potrebbe essere accecato da quello a valle quindi in questo momento non c'è niente di chiaro a livello normativo installativo come ha detto da Maurizio e secondo me è importante seguire quanto dicono i costruttori perché i costruttori sono gli unici in questo momento che possono garantire la prestazione dei loro apparecchi anche perché nessuno vieta che un costruttore possa fare degli interruttori più prestazionali rispetto alle condizioni che richiede la norma la norma è il minimo che uno deve rispettare è quello che dicevamo prima per gli interventi intempestivi cioè l'esperienza poi porta ad aderizzare il tiro sui prodotti quindi mi sembra di capire che appunto anche la normativa stia andando in questa direzione cioè se il costruttore dichiara che sono compatibili concettualmente tutto dovrà essere recepito poi dalla norma impianti e dovrà essere normato e chiarito a questo livello però diciamo che la comunità normativa internazionale si è posta al problema e è arrivata a dire ok o pari livello o un interruttore che sia dichiarato dal costruttore compatibile con l'interruttore a valle quindi questa è la strada che si sta perconendo a livello internazionale che quindi ci dobbiamo aspettare ragionevole volmente Sergio faccio una provocazione ma nel momento in cui io ho appunto più linee sottese dallo stesso interruttore a monte anche una dichiarazione del costruttore potrebbe essere limitante diciamo perché se ho sicuramente sicuramente poi sì cioè ci sono i casi impiantistici che poi dopo possono portare comunque a certo allora sappiamo come funziona i cataloghi dei costruttori cercano sempre di arrivare a prestazioni ma io ho fatto più di un altro ok ma diciamo che la filosofia che ci sta dietro è di dire ok io ho un interruttore differenziale a monte allora personalmente personalmente sono dell'idea che l'interruttore a monte dovrebbe essere massimo di una categoria lasciami dire una categoria inferiore rispetto a quella a valle cioè se ho un interruttore differenziale di tipo B a monte dovrei prevedere un tipo F non dovrei poter prevedere ad esempio un tipo AC a monte di un tipo B questo è il mio punto di vista da tecnico di laboratorio e la mia esperienza mi dice che dovremmo fare così se ho un tipo F dovrei permettere l'utilizzo di un tipo A e così via ma io penso che un costruttore possa dire ok faccio un esempio a monte ho un interruttore di 300 mA tipo B scusa tipo A e posso mettere a valle N interruttori di tipo B da 30 mA ad esempio esatto questo penso che sia la tipo di dichiarazione che un costruttore dovrebbe arrivare a dare all'utilizzatore al progettista soprattutto vedremo come si svilupperà nel futuro vediamo 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 sono arrivate a delle domande ma prima di vedere queste altre domande perché qualcuna ve l'ho già posta in corsa Sergio visto che sei tu il normatore del gruppo ma i differenziali tipo B questa è la nuova questione possono essere utilizzati anche in corrente continua? assolutamente no assolutamente no nel senso che comunque interruttori differenziali di tipo B sono interruttori differenziali studiati per poter intervenire in caso di correnti continue unidirezionali ma non sono interruttori studiati per poter proteggere circuiti in corrente continua soprattutto l'interruzione l'interruzione di correnti in corrente continua non è semplice quindi l'interruttore di tipo B non può essere inserito in un circuito in corrente continua questo è il punto a livello normativo si sta lavorando a livello di 23 soprattutto quindi per l'ambiente domestico si sta studiando una norma che dirà quali sono i requisiti che un interruttore deve avere per poter proteggere un circuito in corrente continua quindi presumo che nei prossimi anni ma a breve perché ormai la norma è addirittura d'arrivo avremo anche interruttori dedicati alla protezione di circuiti in continuo qui c'è una domanda alla quale secondo me potreste rispondere tutte e due vedete voi come giocarvela per il momento abbiamo parlato di classificazione dei differenziali ma queste classificazioni siamo sicuri si applicano sicuramente agli interruttori modulari ma per gli scatolati che prevedono l'esempio relle separato ovviamente come li possiamo incastrare in queste classificazioni? posso rispondere tu Sergio o Maurizio? passo a Sergio allora rispondo io nel senso che allora sia la norma per gli interruttori di tipo domestico quindi parliamo di 61.800 CIN 61.800 o CIN 61.900 sia la CIN 62.7.2 per gli interruttori differenziali fanno riferimento ad una norma internazionale che è la 60IEC 60755 che contiene tutti i requisiti che un interruttore differenziale deve avere per essere un interruttore di protezione per proteggere contro i contatti indiretti e diretti quindi la classificazione è applicabile sia in ambiente domestico che in ambiente industriale l'unica differenza che c'è oggi tra l'ambiente domestico e l'ambiente industriale è che il tipo F nella 69472 non esiste non esiste in ambiente industriale diciamo ma questo perché? perché come ho detto prima l'interruttore differenziale di tipo F è un interruttore dedicato principalmente alla protezione di circuiti monofasi quindi diciamo la sua tipica applicazione nell'ambiente costruttivo del mondo dei differenziali potrebbe essere l'interruttore bipolare o l'interruttore fase più neutro quindi dedicato a un circuito monofasi nell'ambiente industriale l'utilizzo degli apparecchi è principalmente su interruttori tripolari o quadripolari quindi si è andati a coprire il tipo B che come abbiamo detto è in grado di proteggere anche per tutte le caratteristiche previste per il tipo F A e AC quindi i due mondi sono perfettamente comparabili dove nel mondo industriale non esiste tipo F ma è comunque coperto dal fatto che il tipo B deve prevedere tutte le protezioni e gli interventi previsti per il tipo F qui c'è una non capisco se è un'affermazione o una domanda nel senso che non vedo il punto di domanda però al limite proviamo a commentare se si tratta di un'affermazione o di chiarire allora leggo testualmente nel caso di equipaggiamenti di macchine automatiche la presenza di convertitori trifase anche di grande potenza implica specifiche analisi in merito alle correnti di offset esistono indicazioni normative o dei costruttori in merito a quante utenze può gestire un solo differenziale di tipo B secondo me qua ci vuole un punto di domanda poi dice il problema è sempre il costo non so se è chiara ma allora personalmente penso che ci siano delle norme che definiscono quanto sia la massima corrente ammissibile in corrente continua che un utilizzatore può mandare verso terra adesso purtroppo non mi ricordo i valori però esistono dei limiti ben definiti da delle norme di prodotto quindi anche le macchine mi fermo un attimo mi hanno specificato che era una domanda non era un'affermazione ok chiariamo perfetto quindi sicuramente sicuramente ci sono dei limiti massimi che queste macchine possono produrre di offset diciamo in corrente continua verso terra quindi le norme di prodotto tengono in considerazione questi punti e normalmente una macchina non dovrebbe produrre più di 10 mA in corrente continua di offset quindi questo è quanto è quanto previsto dalla norma O03 delta N quindi un tipo B ad esempio da 300 mA può sopportare 100 mA in corrente continua diciamo che la norma di prodotto è adeguata a seguire l'utilizzatore che deve proteggere sì dopo direi che sommando appunto se ho più convertitori vado a sommare quali sono le massime dispersioni e da lì scelgo la soglia del differenziale oppure se proteggere singolarmente ogni macchina questo sta anche alla selettività che si vuol dare anche alla diciamo che essendo un macchinario penso che comunque se viene a mancare comunque una parte probabilmente si ferma tutta la macchia quindi ha anche senso raggruppare più di un circuito sotto lo stesso differenziale esatto e mi chiedo ci chiedono se esiste un interruttore differenziale più consigliato di altri per proteggere lampade a led allora direi di no direi di no anche perché la normativa oggi non dice nulla in tal senso direi che un interruttore di tipo A può essere adeguato a questa protezione questo è sicuramente il mio consiglio anche se scusate molte volte poi queste queste lampade sono in doppio isolamento quindi anche il doppio isolamento molte volte non comporta la necessità di avere un differenziale tanto che vediamo se c'è qualche altra domanda vi ricordo che ho pubblicato sulla chat un link questo link vi porta un questionario e vi chiediamo la cortesia di compilare sono veramente quattro domande però per noi sono molto utili per poter migliorare questa modalità di erogazione se vi è piaciuto se non vi è piaciuto insomma vogliamo fare quello che interessa a voi non quello che interessa a noi quindi aiutateci ad aiutarvi mi verrebbe da dire allora io vedo qui altre due domande che però non capisco sinceramente se sono riferite ad una già fatta perché la stessa persona ha chiesto se appunto in ambito ospedaliero non si potevano utilizzare classe F Maurizio ha risposto poi la stessa persona chiede anche quindi anche per gli inverter dei motori qui non capisco qual è il contesto sinceramente aiutiamo Maurizio Sergio a rispondere per cortesia ma per quanto riguarda gli inverter dei motori vale la stessa considerazione se abbiamo una conversione trifase il consiglio è quello di utilizzare un tipo B e se siamo in presenza invece di un di conversioni in monofasi il mio consiglio è quello comunque di utilizzare il tipo F quindi anche anche se specificano che era riferito agli invertitori di potenza invertitori di potenza intesi come penso all'interno di macchine comunque di macchine dove appunto sia presente questo tipo di elettronica diciamo che se c'è sostanzialmente un raddrizzatore e quindi conversione trifase sicuramente il tipo B qui la normativa si è fermata al tipo A ma mi riaggancio a quello che diceva prima Sergio relativamente al fatto che nell'ambito industriale il tipo se vogliamo il tipo F non è nemmeno considerato perché appunto i carichi in monofasi che presentano diciamo sono abbastanza rari e quindi da qui l'idea di utilizzare soltanto il tipo B io in questo caso mi sentirei abbastanza sicuro se dovessi fare un progetto se il circuito è comunque monofase anche se cioè scusate se il carico è monofase e sono anche comunque in una distribuzione trifase mi sentirei abbastanza sicuro a utilizzare comunque un tipo F in alternativa logicamente al tipo A perché il tipo A logicamente non sarebbe sufficiente se è peggio una domanda che credo possa essere tua è arrivata sempre in chat direi che puoi dare una risposta a mio avviso sia di tipo normativo se esiste una risposta di questo genere o da costruttore da produttore allora in merito alla selettività tra differenziali la domanda chiede se ad esempio a monte di un tipo B da 30 mA si installa un tipo F da 300 mA selettivo se si presenta il fenomeno della saturazione allora un 30 mA di tipo B allora qui rientriamo nelle dichiarazioni del costruttore quindi non abbiamo ancora Bticino non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito anche perché si sta cercando di capire a livello internazionale quale può essere la strada per dichiarare queste cose perché la cosa peggiore che può succedere è che ogni costruttore dichiari qualcosa così per prove fatte quindi fatte nel proprio laboratorio ok quindi comunque la tendenza è di arrivare ad avere un qualcosa di armonizzato a livello di costruttori almeno a livello di costruttori per avere delle prove analoghe tra uno e l'altro probabilmente sì la risposta è probabilmente sì potrei dire anche sì non c'è problema dal punto di vista della selettività se l'interruttore a monte è selettivo comunque la selettività è garantita questo è sicuro il fenomeno della saturazione tra un 30 e un 300 posso dire che non è un problema per il prodotto di Bticino ma al momento non abbiamo nessuna dichiarazione in merito quindi stiamo aspettando che la normativa recepisca qualcosa in tal senso ecco arrivata un altro diciamo che siamo pronti diciamo i prodotti sono pronti ma è ancora la normativa per evolverà il mercato e la richiesta è nottiva giusto per completare chi ha posto la domanda ringrazia fiducioso attende le dichiarazioni il fiducioso l'ho aggiunto io chiaramente ecco arrivata un'altra domanda poi vediamo anche di chiudere perché siamo arrivati oltre l'orario quindi la specifica è se esiste o non esiste una classificazione di differenziali in merito ai disturbi come armoniche o si citano dispersioni varie no allora la risposta è no nel senso che allora in passato abbiamo visto un proliferare di interruttori che avevano nomi commerciali diversi tra i vari costruttori tutti i prodotti di qualità non sto dicendo nulla anche noi abbiamo avuto in passato dei prodotti che si chiamavano HP ad alta immunità alle perturbazioni che erano dei prodotti proprio specificatamente studiati per andare incontro al problema degli scatti intempestivi in realtà con la norma 62.423 che ha analizzato i problemi di scatti intempestivi proprio ha dovuto studiare il problema degli scatti intempestivi perché il fatto di proteggere dei convertitori di frequenza che molto spesso hanno a bordo dei filtri collegati verso terra che poteva provocare l'intervento di questi interruttori differenziali quindi questa norma è una norma che oltre a dire che l'interruttore di tipo F e tipo B è adeguato a proteggere i convertitori di frequenza raddrizzatori monofasi o trifasi dice specificatamente che è un prodotto è una tipologia di interruttore che è in grado di essere particolarmente resistente agli scatti intempestivi quindi oggi come oggi l'interruttore di tipo F è l'interruttore adeguato a risolvere il problema degli scatti intempestivi nessuna classificazione altra esiste ci sono prodotti che addirittura rappresentano dei simboli dei simboli sull'interruttore tipo lasciatemi dire una specie di pinna di pesce cane per simboleggiare un impulso di corrente ok ma sono simboli dei singoli costruttori come noi avevamo l'HPI ma oggi come oggi l'interruttore di tipo F è l'unico o B ovviamente perché io parlo dell'F perché il mio mondo è più quello dell'ambiente domestico scusatemi io per deformazione professionale sono più sull'ambito domestico ma ovviamente anche il tipo B sono gli unici interruttori che per norma garantiscono un'insensibilità e disturbi è chiaro che questo è legato al mondo dell'intervento come si chiama l'intervento a 0,3 secondi quindi l'intervento non selettivo perché poi gli interruttori selettivi come li riportano la S nel quadratino che sono ovviamente insensibili già da da aggiungerei che è proprio la norma di prodotto che si obbliga a provare questi interruttori secondo determinati parametri e quindi da lì nasce il discorso di insensibilità e disturbi certo certo in realtà ce n'è un'altra vediamo un po' se riusciamo chiudiamo però con questa poi l'ultima rispondo io ma capirete perché Norizio chiedono se Miticino ha predisposto dei documenti tecnici sui differenziali in merito appunto alle tematiche che abbiamo dibattuto in questa chiacchierata questa domanda viene a fagiolo non abbiamo dei documenti tecnici specifici ma vi invitiamo proprio seguire i nostri webinar io la settimana prossima proprio martedì riassumerò queste con delle slide che poi verranno rese disponibili in cui parleremo proprio di riassum diciamo sarà molto più fluido perché sarà un webinar di tipo classico parleremo del diciamo di delle varie caratteristiche degli interruttori differenziali quindi per tipologia AAC e quindi riaffronteremo queste tematiche ma parleremo anche di selettività tra differenziali e di protezione andando a toccare proprio il potere di interruzione differenziale il potere di interruzione e quant'altro giuro che non l'ho fatta apposta è arrivata veramente in chat questa e completo io quello che tu hai detto perché un altro partecipante ha chiesto se si può avere una bozza scritta degli esempi illustrati in realtà tra pochi giorni voi se volete potrete ritrovare sul nostro canale youtube la registrazione di questo webinar per cui e anche quelle poche slide che sono state utilizzate come supporto quindi questo ve lo possiamo sicuramente mettere a disposizione lo troverete per tutti i webinar come accennava come accennava Maurizio Caspani vi direi che possiamo passare i saluti sì ringraziamo tutti è stata sicuramente una bella chiacchierata su argomenti abbastanza di attualità direi e ostici e ostici sì ringrazio tutti anch'io per l'attenzione ci vediamo alla prossima bene se vi è piaciuto ditelo tranquillamente o se non vi è piaciuto in quel questionario ne prenderemo atto e vedremo comunque di migliorare grazie ancora a tutti quanti e buona cena direi a presto buona serata a tutti buona sera